Scusate, un attimo anche lei, io però onestamente facendo il conduttore devo anche sapere di che cosa sta parlando Perché lei ha cucinato per un suicida? Cazzo Ok Icida Ah, cazzo Icida Grande artista giapponese Pensavo, ho capito che aveva cucinato per uno che poi si è tolto la vita, prego, vabbè Allora io volevo dire che vi dovete vergognare Perché voi, sì, voi siete l'espressione della tradizione Dovreste insegnare i piatti, cioè dare i piatti come vengono all'origine Invece no, perché mettete la panna nella carbonara Da sì che ce la mettete Usate materie prime scadenti Abbestegnato Addirittura nella panna Sì Abbestegnato In alcune trattorie io ho mangiato la carbonara con la panna Noi facciamo Tre, dica Tre, tre, è lei, è tre Buonasera Giordano Pigliucci, 33 anni Proprietario dell'Osteria Arvignarolo Viva la porchetta Tre Trattorie Ha sentito che ha detto? La carbonara mia ti mangia la carbonara buona La panna, la siete inventata voi la carbonara che ha la panna Ma che state a dire?